Il nome è tutto un programma, si chiama podo barometrico computerizzato del piede, il nuovo strumento inaugurato nella sede Angmil di Pordenone ed acquistato grazie a un contributo della provincia. Qualche mese fa l'inaugurazione di questa nuova sede, oggi un'altra inaugurazione. Di che cosa? Si tratta di una macchina in cui rilieva le problematiche della postura delle persone, posture dovute a un incidente sul lavoro, un incidente stradale, ma anche alle malattie professionali dovute alle scarpe antinfortunistiche. Purtroppo ci sono diversi casi che sono venuti a richiedere questo. Questo è uno dei tanti aiuti che abbiamo garantito all'Ammil, ma più in generale uno dei tanti aiuti garantiti alle associazioni di volontariato e del sociale del nostro territorio. Questo anche per rispettare un impegno preso con i nostri cittadini, cioè che le risorse del nostro ente devono essere soprattutto in questo momento prioritariamente date al lavoro e al sociale, quindi per garantire la coesione del nostro territorio. Quindi nonostante il momento dal punto di vista delle risorse economiche degli enti pubblici non sia dei migliori, la provincia quando può c'è? Assolutamente, non solo, anche con questo nuovo bilancio, prima della nostra chiusura definitiva abbiamo garantito stanziamenti importanti proprio sulle politiche sociali e politiche del lavoro. Credo che queste siano le priorità. Quali sono i benefici che derivano da questo macchinario? Sono benefici diagnostici perché a seguito di diversi traumi ci possono essere degli spostamenti proprio posturali importanti che poi determinano anche tutto uno sfasamento della colonna vertebrale e quindi una serie di problemi che a medio e lungo termine possono svilupparsi in modo anche molto pesante. Per cui avere una diagnostica precisa con un sistema che tutto sommato è semplice nella sua razio però è molto puntuale proprio per quelli che sono gli effetti possibili delle posture è importante.